O muori da eroe, o vivi talmente a lungo, per diventare Mr. Light. Ovviamente resterai da sempre le battute da seconda rivettare, ovviamente resterai da sempre le battute da seconda rivettare. Io non so se tra te e Fabio Zeta chi è più stupido, io non so se tra te e Fabio Zeta chi è più stupido. Grazie a tutti. Sono cogliendo.